...surcet gens auream munto, castra fave lucina, tuus iam prednat Apollo, versus in itio carnis. E paulo post, ille deum vitam accipiet, divisque videri, per mixtus heroas, e ipse viderito illis, pacatumque reget patris iertutibus ormen. Ego, hider sus quamdam spem, etiam, spem certam exprimi. Ego, videatis quem, in carmine de Ulisse, videatis quem, in tecatum locum, hider sus supra, et totum liber un decimus caper. Un scitis, un isea, in medias res incipit. Cum de erodinus suis nara pulixes, abut feracus laxatur, et aciem ocolorum, at ea, quaeam facta sunt diri. Ideque, precepta direse de futurum, in preterito, non in presenti tamo e data, eum tempore partime exacta, partim dero minime perapesum. Dicisque dedipe omnibus, homerus, quincumque sintet, e quando cumque vixerit, nobis ut iam dudum preteritis pulce cedim. Res longe alte vixerim, abut vergilium se cavera. Aciques non est liber un decimus et liber sextus. Cum intitulo opus vergilii, iam extat, et cum idius mentionem eam fegeram, vidiamus sextum carmen aeneidis. Ut scitis vergilius maxima ex parte homerum imitatus est. In sexto litur aeneidis, quod ut un decimum carmen unisee, in medio opere positumens, aeneas cum mortuis biu coloquinto. Sunt tamen quedam discemina, quae hic brevi perstringere con habilo. Fidius aicisis non tantum umberes mordormum invocatut ulicses federam, se un ipset at inferos descenium. Scitisne quo creficere potui. Plex feluncam quandam humis sitam, quae alcun omnibus volentibus pater. equidem quoque in eam descentere potui. Ilic, tamen aeneas, et cum sibilla ila, et compatresum coloquium instituit, qui effuse explicam quidnam futurum si. In inidium carmenis sunt verba sibillae, quae pocis direcie dimagum sunt. Ece i versus notissimi in quibus sibilla ipsa prosus quedam aeneae predicitives. Ilic ipsi. Hic ut videtis, in fis versibus, non est dubium de patum aenees. Nulles sunt facultates, quae dates suntulims in aciresi. Imperativum futuri cavernus. Nome contra au dectio ipo est imperativus tempuris futuri. Ben, aeneas periferus paragrat, et multas uber sodarium conveni, cum quibus tamen non deretius futuri, sete defatis eorum logit. Tarnem adiquantum turiamus ide patem suum ofendi, quam imaginem vix in homericabine invenire possumus. Ece non nulla, nam verba eius multum dilatantum. Ancises. Ebe, primum, Ancises, constrindiam primum, Ancises, dicitse narraturum esse de futuro gentis italianides de romanis, den agite Romulo, den agite Augusto Caisere, e, infine, quoque habet querno precepta, notissima, tuo regere imperio populus, ormane menento, calcivi eruntartes, pacicque imponere morim, paciare subiecis, et develare superbus. Et, ut, at finem perperiam, videtis, igitocii quoque precepta, quae tamen non de uno vievo ultim, comiserarum, se de tota gente romana. Ancises est, persona moris maiorum, qui, ea quae facta, et ea quae futuresum, coniungere oporte. Romanis dunca audienticus, tempore illo grammatico, si, iterum venia verbo futuro, ies, aequabit, circundabit, condet, proferet, non tantum quae dam futura, predicebat, sed, presentim ad gesta suae gentis, iam dudum arte referebat, necno deregus presentimus, repubblica in arama. Sinc, tempus futurum, ut, dixelim, et preteritum, et presens, et dedique futurum, ipsum, colo strata. Hicumum, maximum discrimen, intermineine, et uusia, iage. Vixi. Thank you very much. Maksimus, ainz, at lotsa sakuha, sakuha, boulgari. Boulgarica, ay visi, ewecus, osus, osus, mesiata. Ponišaj, je reka, fata da pisa disfacija za bõdeštao in skrub lainiterektorii, po-tocno v Kézatl, E' un'immagine che mi chiede a scoprire la mia scoperta di Odisseia, in cui stava domani per la corte di Ferrezia, per la mia scoperta di Odisseia, in cui si è raccontato di suo 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 bambino. Mi sembrava che è bene da fare un paralello con un giro, perché molti dori dicono che Begidi è imitato quasi iniziavo, un obiettivo, non è un obiettivo, ma quando vediamo questi occhi, ma possiamo vedere in questo modo. Perché in questo che stava in Odisseia, abbiamo qualcosa che si tratta solo a Odisseia, ma che è molto difficile da stavere. Ecco qua l'Ovisei, la mia stessa persenza, si è trovato per i fiaci, e racconta una cosa, che è stato con lui, in cui si parlano delle cose, in cui si parlano delle cose, Abbiamo un po' difficile e un po' difficile e un po' difficile e un po' difficile di pensare di tutti i tempi, come in grano di grano, ma anche in grano e in grano. in questo modo. In questo modo, in questo modo, a fare queste cose, su queste cose, come dicevole. Il discorso, non è proprio un progetto, ma un progetto, ma un progetto, in questo modo, di questo tipo di riuscire, ciò che ciò che ha lasciato il nostro lavoro, perché ciò non è possibile. Inoltre, è stato molto scusso per tutti quelli che facciano e ascoltano. Oggi in segretà di Odisseia, dovrebbero vedere cosa succede con Odisseia. quindi in quanto riguarda il territorio, in cui si potrebbe essere un'imitante, in cui in genera una città di città, in cui si avrà un'imitante, in cui in genera un'imitante, in cui si avrà un'imitante, dove prima si è stata una città, perché si avrà in Kuba, La città di Sibila è ancora pieno, come mi chiede, anche se si sono iniziati a lei, dove si è iniziato a prendere la città. La città di Sibila diceva come si è successo, poi si è iniziato con molti altri героi, con cui si parlano di un minuto, in cui si sono stati. E in questo caso si è una figura che non lo troviamo in Odissea, che non ha parlato di quanto stanno con la sua vita, ma anche di tutto il suo futuro. Inizia il soggetto il soggetto il soggetto che si stavano, cioè su loro, su tutti gli altri. Inizia il soggetto il soggetto il soggetto il soggetto il soggetto il soggetto. O il soggetto il soggetto ne sono per il soggetto il soggetto il soggetto, ma per il soggetto il soggetto dell'inimino. e anche tutti i miei temati di diritti, dove sono le persone, dove si danno un lavoro, dove si gesti i due giorni, dove si accoravano i miei. che sono tutti i miei. Quindi, vediamo che questo bambino, in cui è stato fatto in 6-5 anni, in qualche modo, si tratta il minuto, ma anche il terzo e il terzo per il terzo. Cioè, il terzo più grande, il terzo più grande obiette, in un terzo più grande. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.